Carlo Massarini, giornalista, conduttore radiofonico dal 1981 all'84 e anche conduttore televisivo, oltre che autore della famosa trasmissione di Rai 1, Mr. Fantasy. Dal 1995 al 2002 conduce anche mediamente per Rai Educational. Dal 22 partecipa al tour teatrale Magical Mystery Story, The Beatles Live Again, sulla storia dei Beatles, con la band The Beatbox, che nelle scorse settimane ha raccolto grande successo qui al Teatro Alfieri. Tra le sue numerose pubblicazioni legate alla critica musicale, ricordiamo Dear Mr. Fantasy, riedito per Feltrinelli nel 2020. E il più recente, Vivo dal vivo, 210-2023. Vivo dal vivo, 2010-2023, fotoracconto di 120 concerti in un'epoca musicale in cui tutto è ancora possibile e non ci sono più confini. Edizione illustrata. Vi ricordo anche che i libri dei nostri ospiti li potete trovare sulla vostra sinistra, sul tavolo che è curato dai nostri librai che si alternano nel corso di queste serate. Massimo Cotto ha esordito come DJ nell'83 alla sede Rai di Torino e dall'84 al 91 ha condotto Rai Stereo Notte. Ha lavorato a lungo nei quotidiani e per le principali riviste italiane e internazionali, sempre in Rai, è stato conduttore di programmi radiofonici e televisivi e autore di numerosi programmi, tra cui il Festival di Sanremo, Castrocaro e The Voice. Tra i suoi lavori teatrali, Da quando ha ora in scena, con Giorgio Faletti e The Camerock, con Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti. Su Virgin Radio conduce Rock and Talk. Padre del libro intervista, autore di decine di saggi sulla musica, le sue pubblicazioni si avvicinano al centinaio. Ricordiamo le più recenti, Il re della memoria, un romanzo, del 2022, e l'ultimo, del 2023, il rock di padre in figli. Carlo Massarini e Massimo Cotto. È sempre bello dividere il palco con qualcuno, ma è doppiamente bello dividere con Carlo, perché lui è stato il punto di riferimento. Per tutti quelli che amavano la musica, un certo tipo di musica, la musica italiana di qualità, ma soprattutto la musica rock, era quello che tutti noi, signorini, non cominciare a rompere i baroni mentre parliamo, ma non puoi parlare ad alta volta, sto parlando di Massarini. Lui era in sintesi quello che tutti noi volevamo diventare. Quindi è vero che se non ci fosse lui io non avrei mai fatto questo lavoro perché faceva radio, faceva televisione, andava a intervistare Jackson Brown in America, faceva tutto quello che noi abbiamo sempre sognato. Per cui è davvero un piacere averlo con me sul palco e con voi questa sera. Esco dal mio leggero imbarazzo dopo doppie presentazioni di questo genere e Massimo sa bene che lo stimo molto. Ero un po' spaventato che facesse la lista dei libri che hai fatto, perché sennò andavo a pigliare un caffè in giro, poi tornavo dopo una mezz'ora. Però insomma, grazie, non so se è stata una buona cosa oppure no, a proposito, ma penso proprio di sì. Noi questa sera siamo qui per parlare. E le tue magliette sono oggettivamente agghiaccianti. No, quella di stasera Rocky Horror ci va anche bene. In genere quelle che pubblica sono abbastanza agghiaccianti, però vabbè. Sono proprio contento. Ognuno trova una mania di identificarsi, no? Chi con gli alieni, chi con le magliette. C'è chi ha i redronni e chi ha queste magliette. Provate a immaginare una cosa, provate a non guardare noi due e immaginare di essere da un'altra parte. Provate a immaginare di essere in uno studio radiofonico. Gli studi radiofonici sono uguali in tutto il mondo, hanno pochissime differenze. Ci sono pochissime cose, c'è quasi sempre un tavolo, qualche sgabello, a volte soltanto uno, direi al massimo tre. C'è qualche luce, naturalmente. Una volta, romanticamente parlando, per citare la copertina di un disco molto bello che è The Night Fly di Donald Fagan, c'era anche il portacenere. Ovviamente adesso non c'è più. E non c'è nessun altro. A volte c'è il tecnico, a volte è, come si diceva, un tempo dall'altra parte del vetro. Quindi quando si accende la luce rossa, voi dovete parlare. E avete davanti una marea di persone che però non vedete. Nel mio caso, la mattina, ci sono 3 milioni e 300 mila persone che mi ascoltano. Ma io non so chi siano. Non so che facce abbiano. Non so quanti anni abbiano. i gusti musicali. Non so se sono vecchi, se sono giovani. Non so dove siano. E soprattutto io non so esattamente che cosa dirò. Perché quando sta per terminare il disco precedente, il tecnico ci dice quanto tempo abbiamo a disposizione. 40 secondi, 2 minuti, 3 minuti, un minuto e 20. Quindi la cosa bella della radio, per me, è che è esattamente come la vita. Non puoi fare le prove. Non puoi prepararti niente. Puoi prepararti un sacco di cose, ma non esattamente quello che dici. Ed è anche una delle poche cose, se ci pensate, la cui magia viene sprigionata interamente dalle parole. Tutte le altre volte noi andiamo a vedere qualcosa. Andiamo a vedere uno spettacolo teatrale. Andiamo... Anche il libro, che naturalmente è fatto di parole, però è mediato dalla vista. Noi lo leggiamo. Noi guardiamo un film. La radio no. Anche noi siamo qui sul palco questa sera. Magari ognuno di noi aveva in mente di dire determinate cose, ma poi quello che succede non lo possiamo sapere perché viviamo dell'interazione con voi. La radio è l'unica cosa dove tu non puoi provare nulla. Ed è questo che la rende unica. È questo che la rende magica. Ed è per questo che ancora dopo cent'anni noi in qualche maniera siamo qui a celebrarla, anche se naturalmente è cambiata tantissimo. Lui la radio non voglio dire che l'abbia inventata, ma ha sicuramente inventato un modo di fare radio che ancora oggi viene preso per esempio da tutti. Allora, io ho cominciato a fare radio tanti anni fa. Era il 1971. Allora, Paolo Giaccio e Mario Luzzato Feggi ci avevano ereditato, fra virgolette, diciamo, avevano sottratto per voi giovani a Renzo Arbore, che però era in tutt'altra faccenda affascendato perché aveva appena cominciato a fare l'alto gradimento con buon compagni. E presero questo programma che Renzo faceva in una maniera molto stilizzata, cioè lui andava, come molti fanno ancora, cioè andava in studio, faceva i suoi monologhi, trasmetteva jazz, rhythm and blues e faceva le presentazioni e poi i tecnici dopo mettevano la musica. Quando l'hanno presa Paolo e Mario invece era un momento storico molto interessante perché era nel 1970 e quindi eravamo in pieno 68, post 68, comunque quello era il periodo storico, qui c'erano fabbriche occupate, scuole occupate, grandi manifestazioni, cioè c'era parecchio di cui parlare nella società civile e quindi hanno cominciato a fare un programma molto sul pezzo, cioè molto sull'attualità. Era il momento in cui Costanza faceva anche 3131, chiamate Roma 3131, insomma la radio si stava un po' aprendo all'attualità, loro si sono aperti un po' troppo e allora il ministro è stato mandato in esilio a Londra nel 1970, poveraccio, cioè veramente un momento terribile per lui. Tristissimo. E a quel punto però c'era bisogno, stavamo il primo aprile 1971, o 31 marzo forse, serviva uno al microfono, per cui io ero lì da un annetto che facevo le traduzioni dei testi, come sappiamo gli italiani in quel periodo non parlavano particolarmente l'inglese, quindi c'erano tutti i testi da tradurre, e quindi da Zappar, Rolling Stones, ma anche Cohen, Johnny Mitchell, Dylan, tutto quel mondo lì, quel mondo cantautorale, quel mondo, diciamolo subito, che i testi allora erano importanti, non è come adesso, che come dire devi trovare la frase ricorrente per farlo diventare un tormentone, allora i testi erano lunghi e importanti. E quindi ho cominciato a tradurre i testi, poi mi sono trovato al microfono con Feggiz, che mi chiamava Cucciolone, ho figlio dell'ammiraglio, questo è un momento brutto della serata, ma ne usciamo subito, e lì ho cominciato, le mie prime trasmissioni facevano, non lo so, facevano probabilmente un po' ridere, forse io, se io mi risento adesso, non so le tue, io mi sento molto imbarazzato. Inascoltabile, non tu, io, io quando sento le prime trasmissioni di Steronotto, e che pure è una trasmissione che è andata molto bene, e ovviamente la radio è cambiata tanto, ha cambiato il modo di condurre, una delle cose che è cambiata, tanto per dire, credo che Carlo tu sia d'accordo, è che un tempo, quello che tu dicevi era intimamente collegato alla canzone che tu avevi appena trasmesso, alla canzone che invece dovevi trasmettere, oggi invece sono due fiumi diversi che corrono verso il mare e sono paralleli, perché tu fai un discorso e poi parte la musica che quasi mai è collegata con quello che tu hai smesso, hai appena terminato di dire. Verissimo, e quindi abbiamo cominciato, per voi giovani era un programma che andava tutti tranne me, in realtà. Perché ti assumevano e poi ti licenziamolo dopo tre mesi o sei mesi. Sì, c'era una burocrazia tutta loro. C'erano un paio di cose strane in Rai, questa era una, l'altra era quella della commissione d'ascolto, che tu non hai conosciuto, ma io invece sì. La commissione d'ascolto era il fatto che quando tu avevi un disco nuovo, dovevi farlo sentire alla commissione, se era in inglese mandando anche il testo, e loro giudicavano se il disco era trasmissibile o meno, per i motivi più disparati, droga, sesso, rock and roll, per i motivi per cui noi li sceglievamo, loro li bocciavamo, in pratica. E questa era un'altra anomalia del sistema, nel senso che tu spesso e volentieri arrivavi con l'ultimo disco fichissimo di qualcuno che avevi appena trovato, ma dovevi aspettare una settimana o due che loro ti dessero l'ok. Io fui licenziato dalla Rai su questa cosa qui, nel senso che io portai, ero molto amico di Venditti in quel periodo, portai Ullalla, che era il suo disco del 77, se non 76, 77, 77, e lo portai e il funzionario di allora mi disse non lo puoi mettere perché non è ancora passato nella commissione d'ascolto. Io dico ma dai, ma figura di Venditti, dai, ma poi insomma Jody, la scimmietta, e lui disse vabbè se lo metti io ti licenzio, e io l'ho misi, e mi licenziò però. Uomo di parola, uomo di parola, come da copione, come da copione, e lì vabbè è finito, no ma evidentemente quando succedono queste cose in realtà è il tuo inconscio che ti dice fatti licenziare e vai a fare qualcos'altro, probabilmente era finito il mio periodo, erano sei anni, era già finito. Comunque insomma, quindi per voi giovani era un programma di stretta attualità, noi mettevamo una musica che la gente non conosceva, la cosa bella di quel periodo lì, immagino che insomma quelli che sono della mia generazione più o meno se lo ricordano, che allora l'Italia era veramente territorio vergine, cioè la gente non la conosce, cioè quando noi abbiamo cominciato a trasmettere Zappa, i Pink Floyd, i Traffic e tutto ciò che ne conseguiva, per non parlare poi dei cantautori italiani e tutto il resto, la gente ci diceva ma dove avete preso questa da dove arriva questa, era una cosa un po' da alieni, cioè uno portava del materiale che la gente non conosceva e quindi c'era grande, la stessa cosa che poi è successa a Mr. Fantasy con i videoclip in un certo senso e la gente era veramente stupefatta di questa cosa, di questa musica, King Crimson, ma che roba è? Sì, no, e quindi era molto divertente per quello, poi Paolo che era un teorico dell'alternanza delle specie, lui voleva che, e sono d'accordo con lui, cioè a sentirlo allora, allora ognuno di noi diceva beh io però un po' più di spazio magari mi farebbe piacere avere, però insomma a riguardare indietro Paolo che è stato un grandissimo e ci ha lasciato tre anni fa ed è stata veramente una grande perdita non solo per me, è stato un po' il mio mentore ma credo per la radio televisione italiana in generale e Paolo sosteneva che bisogna diversificare per cui per voi giovani ruotavamo, però insomma Popoff dove era un po' più preciso perché c'era una sera a testa, eravamo io, io mettevo fondamentalmente in quel periodo storico, cioè primi anni settanta mettevo prog, cantautori americani fondamentalmente, poi c'era Fiorella Gentile, Gianluca Luzzi e Michelangelo Romano, Fiorella metteva musica frou frou, cioè Bowie, Roxy Music, tutta questa roba un po' scintillante così, poi c'erano Gianluca Luzzi e... Secondo me qualcuno ti mena dopo che hai detto frou frou Bowie, però... No, per carità... Perché alzano poco la mano ma alzano le mani quando... Beh, beh, io ho detto i più famosi, non avete idea di tutti gli altri, no, Bowie poi... Certo. Chiappò, Bowie, intelligenza, uomo di intelligenza superiore, mi ha rovinato la vita, ma insomma poi ne parliamo magari. E poi c'era Michelangelo Romano che portava i nuovi cantatori, lui è stato il primo a portare in Rai e far sentire quando non avevano ancora fatti i dischi dei Gregori, tutta quella genia lì praticamente, e anche la musica napoletana. Poi c'era Cascone naturalmente molto sulla musica napoletana, poi sul black in generale, e c'era Dario Salvatore con il rock and roll anni 50-60, per cui insomma capite che c'era un ventaglio di proposte completamente diverso. La cosa bella è che è la cosa importante da dire di quel periodo storico, è che noi a parte il fatto che avevamo una totale libertà di mettere quello che ci pareva, cosa che adesso chiaramente non esiste più, nel senso che adesso sono fondamentalmente le radio che hanno in genere un capo della programmazione, che spesso e volentieri è legato alla multinazionale a cui fa capo la radio, eccetera, e mette più o meno quel genere di musica e non se ne esce. La cosa bella era che noi, oltre a mettere quello che ci piaceva, avevamo una totale libertà di flusso. Io mi ricordo che c'erano le mie puntate, che fra l'altro molte sono anche sul web, si possono anche sentire, e passavamo da Kit Jarrett a Venditi, dai Weather Report a Finardi, da Bob Marley a Cat Stevens, da Jackson Brown, e quindi c'era un'idea di radio a 360 gradi che si è completamente persa. Il motivo per cui la radio di allora, secondo me, era più interessante della radio di adesso è che ti dava un ventaglio di proposte. Sì, ogni tanto magari c'era qualcosa che ti piaceva un po' meno, ma tanto quello c'è anche adesso. Però se tu la sentivi per un periodo abbastanza lungo, ti dava veramente un'idea di quello che c'era nel mondo musicale. Poi la differenza sostanziale è anche nel fatto che un tempo i DJ potevano mettere la musica che volevano loro. Adesso invece, come ha detto lui, esiste il direttore della programmazione, esiste il direttore artistico. In America, quando nasce una nuova radio, la domanda che fanno è se questa radio fosse una canzone, quale canzone sarebbe? E quindi tutte le canzoni vengono scelte con delle ragioni di contiguità stilistica, oppure anche solo tipo, se è una canzone dei Beatles puoi mettere gli Stones, ma perché hanno comunque un rapporto. Come ti trovi tu con questo tipo di radio? Perché tu a Stereo Notte immagino mettevi più o meno quello che volevi. Con la libertà assoluta e tra l'altro io ho scoperto molto tempo dopo che una delle ragioni per cui Stereo Notte ha avuto così successo e il nostro punto di riferimento era proprio per voi giovani, è che la SIAE dalle nove in poi non pagava i diritti d'autore. Quindi le case riscografiche non erano interessate a farci trasmettere le cose, noi avevamo la libertà assoluta di fare quello che volevamo. Però anche se Carlo è arrivato prima, perché tra noi ci sono dieci anni, ma io ricordo comunque delle aberrazioni stranissime. Nel mio contratto ad esempio c'era scritto che io non potevo rilasciare interviste, non potevo farmi vedere in pubblico, non avevo ancora le magliette, però non potevo farmi vedere in pubblico, non potevo andare in televisione. Insomma, l'idea era quella che chi faceva radio doveva fare la radio e doveva essere semplicemente una radio, una voce. E infatti sono successe alcune cose assurde. Una, che è quella che mi ha divertito di più, io tutti i weekend, il venerdì facevo il primo turno di resta da notte, che erano quattro segmenti di un'ora e mezza a testa, da mezzanotte alle sei. Io facevo, mi avevano messo Pierluigi Tabasso, che è stato per me quello che Paolo Giaccio è stato per te, c'è stato il mio mentore, è stato quello che mi ha permesso di fare radio. Mi metteva il venerdì alla prima ora, in modo tale che io poi potevo prendere alle tre il treno da Ostiense. Ora il treno alle tre da Ostiense è un po' come Alcatraz, ma con più delinquenti. E quindi io ero terrorizzato. Per andare dove? Per tornare a Dasti, dove avevo la fidanzata. Tornare a Dasti? Sì, e quindi io tutto il weekend io tornavo a Dasti. Erano i tempi in cui dormivo, non soffrivo di insonnia, quindi avevo una bellissima enorme radio arancione che io mi mettevo al collo di quello che facevamo a Tic Tane, ovviamente come tutte le sveglioni, e due volte nonostante questo mi sono svegliato a Torino, perché non mi sono svegliato a Dasti. Allora, una sera è stata particolarmente inquietante, perché c'era, in quella fauna, come vi dicevo, bizzarra e anche un po' che intimoriva, c'era questo qui che continuava a passarmi davanti e poi si fermava, e mia mamma mi ha sempre detto, quando hai paura non scappare, perché se scappi è peggio, però io mi cagavo a Dasti. Quello nella savana, mica a Roma. Allora, niente, quindi questo è passato avanti e alla quinta volta, con io che già pensavo non sarei mai più arrivato a Dasti, mi guarda e con marcato accento napoletano mi dice come si chiama il fotografo degli UFO? Come si chiama il? Il fotografo degli UFO. Quando tu hai paura, dici, eh? Cosa dici? Hai capito niente? Allora, lui mi ha ripetuto, come si chiama il fotografo degli UFO? Io con tutta la forza che avevo ho detto, non so, e lui mi ha detto, ufotografo. Poi, ma giuro che è vero, eh? E ha continuato ad andare avanti e indietro. Io sono salito con l'adrenalina a mille e non riuscivo ad addormentarmi. Vedo che davanti a me c'è uno che ha una borsa con l'adesivo di stereonotte. E dico, no, ma non mi sembra vero. Per la prima volta nella vita io posso parlare con uno che mi ascolta. Io che nel contratto non posso farlo, posso finalmente incontrare. Allora gli dico, ascolti stereonotte? E lui dice, sì, sì. E chi ti piace? E lui li dice tutti. Dice anche il tecnico, Sergio Spaccini. E io gli dico, ma Massimo Cotto e lui? Ah, è bravissimo, ma dovresti conoscerlo. È una testa di cazzo. Passano gli anni, io, non siamo ancora nell'era dei social, quindi non siamo ancora, però erano già i primi tempi. Vado a Firenze, faccio una cosa e trovo, io avevo una maglietta con la lingua degli stonze, e trovo una ragazza con la lingua degli stonze, quindi faccio il cretino, così non ci provo, no, però faccio un po' il cretino. E dopo un po' le dico, ma tu che musica ascolti? Ovviamente un'altra gli stonze, le dice tutta la musica che passa a Virgin Radio. E io dico, stavolta è la mia vendetta, l'ho aspettata per vent'anni, trent'anni. E dico, e chi ti piace? E lei mi dice, guarda, tu dovresti conoscerlo, Massimo Cotto. E parte con due minuti nel dire delle cose bellissime su di me. Io alla fine la guardo e dico, sono io, Massimo Cotto. E lei fa, impossibile. Quindi, non mi è andata bene. E' l'altro lato della storia che non bisogna mai conoscere i propri idoli perché ci rimani male. Non devi mai conoscere i tuoi ascoltatori. Esattamente. Un momento per me importante, visto che lui ha raccontato del suo inizio nel 1971, è quello relativo alle radio libere. Che per me è una delle storie più belle, più romantiche che ci siano mai state. Probabilmente la conoscete, ve la sintetizzo in 150 secondi perché è una cosa che mi ha sempre riempito il cuore. Ma fino al 1974 la RAI aveva appunto il monopolio delle trasmissioni. Quindi nessun privato poteva trasmettere. Quelli che vivevano al nord erano un po' più fortunati, forse, perché potevano ascoltare la radio svizzera, la radio Capodistria, c'era la radio Monte Carlo. Esatto, c'era la radio Monte Carlo. Poi nel 1974 la Corte Costituzionale dice che si può anche trasmettere, ma soltanto via cavo. E invece un gruppo di pazzi decide ugualmente di aprire le trasmissioni, di aprire delle radio e trasmettere in via ettere. Ma non si poteva. E a quelli che chiedevano, ma scusa, ma perché apri una radio libera quando non si può perché la legge non lo consente? La risposta era, perché forse cambia la legge. Questa è una delle risposte più belle, più romantiche, più assurde che si potessero dare in quegli anni che non erano gli anni di adesso. Perché erano gli anni della legge reale, erano gli anni in cui, come dire, potevi rimanere in un fermo preventivo fino a quattro giorni anche in assenza di flagranze di reato. Erano anni in cui, se tu sbagliavi qualcosa, i rischi erano notevolissimi. E quindi nascono queste radio libere che trasmettono in modulazione di frequenza, mentre prima era M, quindi in modulazione di ampiezza. La RAI trasmetteva da 87,5 fino a 100 MHz e quasi tutte le radio private invece dai 100 in su. E nasce un nuovo modo anche di fare radio che, se ci pensate, è alla base di quello di oggi. Pensate all'interazione con il pubblico. Oggi quasi tutte le radio vivono dell'interazione col pubblico, che invece in RAI era completamente diversa. Si possono finalmente trasmettere con assoluta libertà, senza commissione di ascolto e senza censure, tutto quello che vuoi. Le censure in quegli anni oggi fanno sorridere. La prima cosa che mi viene in mente è Alice non lo sa di De Gregori, che viene censurata, perché c'è un verso che dice il mendicante arabo ha un cancro nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Ci sono state tante però di canzoni censurate. La motivazione fu, se questa canzone viene ascoltata e trasmessa all'ora di pranzo, all'ora di pranzo c'è qualcuno che ha voglia di sentire parlare di cancro. Era un paese molto moralista allora, però mi ricordo che con i cantautori, su quelle straniere andavamo un po' a nozze, perché la commissione d'ascolto ovviamente non parlava inglese, quindi noi raccontavamo qualsiasi balla, non so. Ma il signor Jaeger sì, non è soddisfatto, ma lui vorrebbe di più, vorrebbe fare delle cose che non riesce a fare. Per cui passavamo, cioè i messaggi passavano sui cantatori italiani era oggettivamente un po' più difficile. Bennato, il secondo album di Bennato, Buoni e Cattivi, per metà fu censurato, ma proprio per metà, cioè Affacciati Affacciati, insomma tutte le canzoni che avevano a che fare col Papa, Presidente della Repubblica, o che sembravano un pochino insurrezionali, cioè in realtà venivano tagliate. Ma non solo, ma anche Venditti, tutti, Guccini, per cui insomma non era proprio, era un bel taglio sulla produzione soprattutto italiana. Però se ci pensi sono pochi i personaggi che sono riusciti a rimanere nella storia della radio e nella storia della televisione, perché hanno due linguaggi completamente diversi e tu ci sei riuscito, Mister Fantasy è stato un altro di quei, possiamo dire forse che... Hai fatto un salto mortale? Mortale Mortale, infatti vedo tutti i morti Nessuno alza la mano Allora, no, perché possiamo dire che per voi giovani sta la radio, come Mister Fantasy, sta a un nuovo modo di fare televisione per quanto riguarda la musica. Forse insuperato, c'è stato Doc di Arbore, ma una roba così potente e devastante non credo che ci sia più stato dopo Mister Fantasy. Io tendo sempre a dare il merito a Paolo, nel senso che Paolo ha avuto questa grandissima intuizione. Dopo quella radiofonica ne ha avuto un'altra, che era quella televisiva, che c'era questo materiale che girava nelle redazioni, cioè c'erano già i filmati. In realtà adesso poi facendo questo spettacolo sui Beatles, che è venuto al teatro... C'era qualcuno al teatro Alfieri quando siamo venuti? Mi ha alzato le mani, hai visto? Sì, sì, sì. Thank you. E quando ho fatto questa cosa, che ho dovuto fare chiaramente un po' di ricerche eccetera, ho scoperto che in realtà i Beatles per l'ennesima volta sono stati a prepista anche in quello, cioè c'è 1965 paperback writer se non sbaglio, o addirittura help, e loro avevano già fatto il videoclip, loro seduti, che giocavano un po' con le posizioni eccetera. Quindi questo materiale in realtà c'era, però nessuno aveva pensato di renderlo un formato. E invece Paolo ha avuto questa intuizione che è stata anche più interessante del semplicemente mettere dei videoclip, perché si stava aprendo un'epoca, si stava davvero aprendo l'epoca dell'immagine, poi alla fine. Perché fino a quel momento in realtà contava più la parola, poi da un certo punto, i primi anni 80 e gli anni 70 infatti sono stati anni molto di parole in realtà, e poi dagli anni 80 in poi è cambiato tutto, è diventato molto più importante l'immagine, quindi il look, come si chiamava allora, e poi insomma tutto il resto, per cui arriviamo poi ai nostri giorni con i social e tutto il resto. Ma allora Paolo ha avuto quest'idea di fare intorno all'idea del videoclip, che cominciavano a esserci con una certa frequenza, anche se erano ancora molto, molto, chiamiamoli sperimentali, ma non nel senso particolarmente raffinato, erano anche molto basic, molti erano soprattutto dal vivo, insomma non c'era una grandissima produzione, però ce n'era abbastanza per poter fare un programma settimanale che ne metteva in onda qualcuno. Però lui intorno a questa cosa ha costruito un'idea di immagine, per cui c'era, c'erano i videoclip, ok, però c'era anche la videomoda, la videoarchitettura, e poi la videohit e tante altre cose, cioè intorno alla parola video in realtà ha costruito un vero e proprio concept, e credo che sia stato quello, e poi naturalmente l'idea del bianco, l'idea che all'inizio era uno schermo di computer, poi è diventato il bianco assoluto, quello di Convertino, con le immagini di Convertino, questa idea che era decisamente rivoluzionaria, in televisione non si era mai visto nulla del genere, aveva un'ispirazione che era Studio 1, ti ricordi quello, no, l'enorme Studio 1, bianco e nero, stiamo parlando per chi c'era, con l'orchestra sul fondo e poi i presentatori che arrivavano dal fondo fino al primo piano. L'idea era un po' quella, naturalmente a colori e non in bianco e nero, e quindi tutto quanto ha preso una concettualizzazione, per cui è stato un programma che era quasi più artistico che musicale per certi versi, e credo che la fortuna sia stata quella, e naturalmente esattamente come la radio, esattamente dieci anni prima, perché era 71-81, e la gente si rivolgeva a noi e diceva, ma dove avete trovato tutti questi video, ma cos'è questa musica, perché era chiaramente una generazione successiva, cioè dieci anni più o meno è una generazione, e quindi tutti quanti si trovavano con una nuova musica, che era la musica degli anni Ottanta, poi, Talking Heads, Peter Gabriel, tutte queste cose erano i primi videoclip veramente belli, poi è arrivato Michael Jackson, e quindi in quel momento storico lì la gente vedeva queste cose per la prima volta, a un'ora un po' strana, che era abbastanza notturna, con un lessico che si era chiaramente creato nel frattempo, creature della notte, tutte quelle cose lì, abbiamo creato in realtà un mondo, potremmo dirlo, anche poi l'idea dell'iperspazio, entrare nel tunnel, quindi essere fuori dello spazio e dal tempo, entrare un po' in un'altra dimensione, tutto questo insieme di cose credo che abbia creato un linguaggio, e un'immagine che era veramente molto diversa dalla televisione di allora, anche perché noi rifuggevamo dal, erano i primi tempi della televisione a colori, ti ricorderai i chroma key, no? I chroma key che impazzavano, no? Il classico chroma key era quello che poi la faccia veniva ripetuta dieci volte in diagonale, e noi assolutamente, noi proprio quasi non l'abbiamo toccato al chroma key, eravamo ancora analogici per certi versi, no? Il telo bianco con un'americana con una luce soffusa, azzurra, gialla, rosa, quel che fosse, qui era qualcosa di molto anomalo, io credo che sia rimasto nell'idea, nella mente di persone, la frase, io ho fatto questo tour, un show dei Beatles che è venuto anche qui all'Alfieri, in assoluto la frase che ho sentito di più è ti seguo dai tempi di Mr. Fantasy, è proprio, cioè, 20 volte a sera, ti seguo dai tempi di Mr. Fantasy, e io faccio sempre, e anch'io lo seguivo, e credo che sia rimasto molto nell'immaginario delle persone, proprio per la sua anomalia rispetto a tutto il resto, che è poi la cosa che differenzia i prodotti, i programmi, no? Cioè, ti rimane in mente qualcosa se è molto diverso da tutto il resto, perché le cose che sono anche belle, ma che sono un po' uguali alle altre, magari non le focalizzi più di tanto, quello che è veramente diverso ti rimane impresso. Voglio aprire una parentesi prima di tornare poi alla radio, perché una delle ragioni per cui io sono debitore a Carlo è che lui mi ha fatto conoscere per la prima volta a Jackson Brown, che era uno dei miei miti, e la storia a me ha sempre divertito molto, perché un giorno ricevo una telefonata di Carlo, che mi dice, senti, c'è Jackson a Roma, se vuoi andiamo a pranzo con lui. E quindi io dico, ci penso. E quindi ovviamente vado, andiamo, e il ristorante era la terrazza di Villa Hassler, te la ricordi? In cima agli Spanish Steps. Quindi uno dei posti più belli, ma anche più cari di Roma. E al tavolo eravamo io, così è la sindrome di Gianni Minà, eravamo io, Fidel Castro, Maradona, però eravamo io, Carlo. Poi c'era Jackson, all'epoca fidanzato con Daryl Anna, ricordate, attrice bellissima e bravissima. Prima che si tirassero gli stracci, diciamo. Esatto. E il manager di Jackson. Quindi a un certo punto, in questo posto con 250 camerieri, di questa sala deserta dove c'eravamo soltanto noi, Daryl Anna sputa nel piatto la frittata che aveva ordinato. Che secondo me era anche una punizione giusta, perché sei lì perché prendi una frittata, e sei uno dei posti più belli del mondo. Vabbè. Sono americani. In quel momento c'erano 250% preoccupati per questa, che poteva essere una caduta di gusto. E invece in realtà si scopre che dentro la frittata c'era un pezzo di vetro, grosso così. Allora, panico. E Daryl Anna, la vera signora, se ne esce dicendo scusate, ma fermatevi, fermatevi. Non è meraviglioso che ci sia un diamante dentro una frittata. E quindi noi ci siamo innamorati ancora di più di lei. Il pranzo è stato perfetto fino al momento del conto. Perché Jackson ha guardato Carlo e gli ha detto scusa, ho lasciato in stanza il portafoglio. Puoi pagare tu? E lui, te lo ricordi? Mi ricordo questo, sì. Il diamante non me lo ricordavo più. Il conto me lo ricordava. E quindi lui ha detto vabbè. No, ma mi faceva ridere che uno che dormisse a Villas dimenticava il portafoglio in camera poteva mettere sul conto. Però è stato bravo. Sì. Avevo già la carta di credito. Ero già abbastanza grandicello. Potevo pagare io, sì. Quindi è stato meraviglioso. C'è il titolo che dice Radio Libera Veramente. E c'è un punto interrogativo che un tempo ovviamente non c'era. Però forse potresti raccontare la storia di extraterrestre che Eugenio Finardi ha scritto pensando a te. Che non c'entra nulla con l'idea di Radio Libera Veramente. C'era per il titolo di Eugenio. Sì, la cosa buffa è che spesso e volentieri veramente tu non lo so vivi in un altro mondo e rendi conto delle cose che ti succedono intorno. Quando uscivi perché io poi me lo sono andato a rivedere avendo fatto prima Dear Mr. Fantasy poi Vivo dal Vivo in entrambi i libri c'è Eugenio che per me è veramente un fratello nel senso che forse è l'unico musicista col quale sono rimasto veramente amico col quale ci sentiamo spesso raccontiamo cose eccetera e io sono andato a rivedere la recensione era Blitz 1978 e in realtà io non avevo minimamente non solo non avevo capito che la canzone era in qualche maniera ispirata a me ma addirittura dissi ma cosa sono queste cose Guerre Stellare perché era poi il periodo in cui era uscito Guerre Stellare ma figo è Finardi ora si mette a parlare di Guerre Stellare per cui praticamente lo insultai su questa cosa e invece non mi rendevo conto che ero io quello nell'abbaino ed era devo dire è una canzone intanto è una canzone bellissima devo dire è un rifarcimento un po' di musica ribelle nel senso che è un po' lo stesso giro un po' la stessa timbrica eccetera e porta anche avanti lo stesso discorso di musica ribelle che in qualche maniera nella quale in qualche maniera mi ci identificavo anch'io nel senso che io ero quello che ascoltava la musica straniera cioè io ero quello che ascoltava poca musica italiana l'ascoltavo la mettevo in onda anche la trasmettevo ma insomma il mio interesse è sempre stato per la musica straniera non quella italiana per cui quando uscì musica ribelle quelli che ascoltano la musica la sua al cosmo eccetera ero già io nel senso che era già quella parte di generazione che ci teneva di più alle cose estere rispetto alle italiane poi è arrivato extraterrestre e io credo che lui abbia fatto una grande operazione su di me nel senso psicologica su di me non solo perché aveva capito insomma ve la ricordate più o meno la canzone fondamentalmente è quello di uno che vuole scappare che vuole andare via vuole andare in un altro mondo trovare un mondo migliore lì c'era un po' tutto c'era un po' di Jackson Brown for every man c'era tutta la mia psicologia di quel periodo di andare di andare via di andare dall'altra parte del mondo di andare in un altro pianeta o quello che sia e lui questa cosa l'ha raccontata molto bene e poi però si è dimostrato lo dico è una cosa abbastanza personale però perché non dirla in realtà poi è veramente la mia storia nel senso che io cercavo davvero qualcosa qualcuno qualche essenza e poi alla fine l'ho incontrata che era stato il mio il mio maestro indiano Sanji un santo indiano ed è successo esattamente come nella canzone cioè io volevo volevo qualcos'altro non sapevo che cosa fosse era evidentemente era un anelito spirituale non era non era una cosa materiale non è che volessi cambiare ambiente che cercavo qualcosa che fosse superiore trovandola io non so quanti di voi abbiano fatto un percorso spirituale ma in genere nel primo periodo in cui tu hai delle rivelazioni esoteriche entri sempre in una fase che sai tutto tu che in qualche maniera hai capito come funziona la macchina chiamiamola così e questo era quando vai poi a un certo punto ti trovi lì e ti rendi conto che invece devi tornare indietro esattamente come nella canzone che poi alla fine ti trovi su questo pianeta l'area un po' più un po' più verde del normale è tutto bello è tutto bellissimo ma ti rendi conto che poi lì non ha senso stare perché poi tu devi tornare indietro e quindi ho dovuto fare un percorso dentro di me ho dovuto fare un percorso per rientrare in diciamo in Italia sul pianeta Terra e Eugenio chiaramente non poteva sapere tutto questo ma quella canzone non è solo descrittiva quella canzone è stata profetica per me ed è per quello anche il motivo per cui ci sono così affezionato e riguardo al punto interrogativo tu cosa pensi che sia ancora libera oppure che in qualche modo l'abbiamo detto certo la magia della radio esiste ancora ma è indiscutibile che oggi ci siano delle modalità differenti con degli artisti straordinari che non passano in radio lo ripetiamo molte volte per per fare l'esempio forse più eclatante se oggi uscisse emozione di Battisti forse non riuscirebbe ad avere lo stesso successo perché nessuna radio la trasmetterebbe perché non ha i BPM giusti perché non è una canzone radiofonica esiste tanta musica meravigliosa che in radio non trova spazio ed esiste tanta musica questo è parte del problema ma lo stavamo accennando prima io ho lavorato prima di Massimo per Virgin e il paradosso di Virgin era che era una radio rock il rock lo sanno anche i bambini nasce dal blues poi alla fine è una derivazione della musica afroamericana dal blues rhythm and blues rock and roll rock e loro però non mi facevano trasmettere il blues e io dicevo ma questa è la musica delle origini cioè di quello che voi state trasmettere cioè perché posso mettere i Rolling Stones ma non posso mettere Muddy Waters non ha senso questa cosa per cui vedi che anche in un ambito di una radio comunque abbastanza figa cioè nel senso no trasmette musica divertente forte eccetera eccetera però anche lì ci sono delle restrizioni e adesso e io fra l'altro curavo una rubrica per cui io ero extra programmazione no figurarsi la programmazione era che i Rolling Stones dico Rolling Stones magari sbagliando il gruppo ma i Rolling Stones sì li potevi mettere ma potevi mettere solo cinque canzoni dei Rolling Stones potevi mettere la canzone che ti piaceva a te no dovevi mettere quelle cinque per cui quello è stato il mio impatto con la radio poi mi sono trovato benissimo a Virgin ho fatto anche un libro Absolute Beginners ma quello è stato il mio impatto con la radio diciamo degli anni dieci la domanda è impegnativa cioè se la radio è libera veramente intanto bisognerebbe capire che cos'è la libertà e che cos'era la libertà negli anni diciamo 70 quando c'erano le radio libere e qual è la libertà di adesso perché la libertà di allora era una libertà forse più semplice meno condizionata da tutta una serie di sovrastrutture che si sono create negli anni e che la rendono inevitabilmente molto più strutturata e quindi anche molto più legata a determinate logiche per dire i ragazzi che facevano le radio libere non si preoccupavano all'inizio poi più smart hanno capito che c'era un business da farci sotto ma quella radio lì fondamentalmente era una radio davvero libera nel senso che non aveva costrizione di nessun genere chiunque metteva quello per certi versi anche poi i nostri per voi giovani e i tuoi stereonotti uno metteva quello che gli piaceva non c'erano veri grandi problemi poi però subentrano tutta una serie di meccanismi cioè la radio sta in piedi con una serie di finanziamenti quindi con una serie di pubblicità e quindi per avere una migliore pubblicità devi avere più ascolto e quindi per avere più ascolto devi avere una musica un po' meno raffinata un po' più alla portata di tutti e lì ci si incammina lungo un percorso che è stato anche quello della televisione non solo della radio che ti porta a essere libero ma ma in una stanza piccola diciamo non sei libero nel mondo sei libero nella tua stanzetta e perché le pareti sono fatte dalla pubblicità sono fatte dall'algoritmo o dalla programmazione sono fatte dalle fasce orarie sono fatte da tante cose il fatto che adesso per dire quello che dicevi in maniera sagace tu no due fiumi paralleli il fatto che tu in realtà non parli delle canzoni tu parli di altri fondamentalmente cazzeggi e poi arriva una canzone che spesso non è neanche annunciata è una radio profondamente diversa quasi imparagonabile alla radio che facevamo noi cioè sono proprio due mondi diversi sono pere e mele cioè sono due cose che non hanno in realtà una base comune se non sul fatto che a un certo punto poi si mettono delle note perché noi facevamo io e molta della mia generazione siamo cresciuti con un'idea che era quella che la musica fosse una arte contemporanea io l'ho presa da Rolling Stone quando ero piccolino ho cominciato a leggere in quei tempi c'era fondamentalmente Rolling Stone come rivista di riferimento e io devo dire mi sono un po' forgiato su questa cosa cioè che l'idea è che uno la musica è arte contemporanea esattamente come la scrittura la pittura il cinema la poesia eccetera quindi è arte considerare una forma di intrattenimento e basta è uno dei più grandi errori che si possa fare intrattenimento o tappezzeria per le orecchie come si dice in maniera ancora più diminutiva questa è la prima cosa la seconda cosa era che essendo una cosa di livello si poteva anzi si doveva parlarne a livello e quindi sia nella mania di scrivere sia nella mania di presentarla andava tenuta in considerazione questa cosa a meno che tu non fossi proprio in grado c'era qualcosa di culturale dietro da raccontare questa era un'idea e quella di adesso no quella di adesso è di puro intrattenimento quella di adesso è teniamo compagnia le persone mentre sono in macchina o mentre stanno stirando a casa questa è e mi viene in mente una battuta di Frank Zappa stavo sentendo questa intervista a un certo punto lui diceva la mia musica non è musica con la quale puoi guidare o puoi o puoi stirare ed era così cioè era musica con la quale sì potevi fare le tue cose però era meglio se l'ascoltavi perché c'era qualcosa da trasmettere è cambiato tutto per cui quando tu dici è libera veramente io non so neanche se quella era libera perché poi c'avevamo la commissione d'ascolto era un po' una buffonata ma insomma comunque c'era però sicuramente se tu parlavi di determinate cose nessuno ti fermava cioè io mi ricordo noi avevamo dei belli adesso li chiameremmo opinionisti o ospiti o no Claudio Rocchi che parlava di tutto il suo misticismo metropolitano chi leggeva Kerouac chi invece trovava altre insomma ognuno di noi aveva il suo taglio e adesso non lo puoi più fare per un fatto di tempo perché hai 45 secondi cioè perché poi ti parte il pezzo cioè io sono stato a 102,5 cos'era no vabbè insomma sono stato in una radio di queste e realmente ti parte il pezzo cioè se tu stai parlando ti parte il pezzo sopra cioè il pezzo parte 42 secondi dopo quell'altro perché il tappeto è unico non sei tu che comandi l'avvio del pezzo tu sai che quello è il rullo e quindi se tu non finisci di parlare in tempo ti parte la musica sopra ci fai anche una brutta figura sembra che tu non stia facendo bene il tuo mestiere quindi sono due realtà così diverse che faccio veramente un po' fatica a paragonarle sono più contento se parli tu che se parlo io perché hai un sacco di cose da raccontare prima di dare spazio se ci sono qualche domanda del pubblico per chiudere questa serata ti vorrei chiedere due cose la prima è la tua forse bisogno credo voglia di raccontare di andare indietro nel tempo quindi i tuoi libri se quello che tu hai vissuto oggi lo ricordi in una maniera diversa mi spiego meglio una delle mie frasi preferite di Julian Barnes che è uno scrittore che amo molto è che il ricordo è la somma di evento accaduto più tempo trascorso cioè a seconda del tempo che tu passa una cosa la ricordi in un modo oppure la ricordi in un altro perché aggiungi tutto il vissuto e la seconda cosa in quegli anni straordinari che sono stati gli anni della mia adolescenza chi amava la musica rock aveva comunque dei gusti diversi c'era chi amava non so il country rock di Crosby Sinai Chayang oppure amava Li Hu oppure amava le tre Jay c'era un solo nome che metteva d'accordo tutti e su questo palco c'è una sola persona che ha incontrato Bob Marley per cui vorrei che tu lo raccontassi ho giocato anche a pallone con Bob Marley devo raccontare Bob Marley? direi di sì ok allora intanto sono d'accordo sull'idea del ricordo che è un mix che è una 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 trasposizione di quello che tu hai vissuto perché poi aggiungi delle cose te ne perdi delle altre per cui poi alla fine non è mai veramente quello che è successo se fai lo stesso libro fra dieci anni la racconti in modo diverso sì sì no ma sicuramente Marley Marley allora io la prima volta che ho sentito Marley ed ero già un pochino in ritardo credo che sia stato verso il perché il primo disco di Marley internazionale esce nel 73 io credo di averlo sentito un filo dopo ma ho cominciato a metterlo in radio perché mi sembrava io poi insomma ho amato molto molto il reggae perché trovavo che nel reggae c'erano tante cose di quelle fantastiche cioè intanto questa danza no? molleggiarsi un po' sulle ginocchia musica dolce ma che poteva anche essere musica di fuoco se vogliamo musica con un con un significato ma però come tutta la musica nera musica liberatoria la musica nera rispetto a quella bianca se si può fare una divisione del genere fondamentalmente è musica catartica quindi è una musica che tu vivi per superare forget your troubles and dance no? come diceva Marley dimentica i tuoi guai e balla continua a ballare Marley era uno sciamano fondamentalmente Marley era uno sciamano di origine lontanissima origine africana che fondamentalmente riproponeva in concerto quello che erano i rituali sciamanici dell'Africa originaria no? tutti intorno al fuoco in qualche maniera a cantare a suonare percussioni io poi ho fatto un viaggio in Benin al festival del voodoo io ho avuto una grande attrazione per l'Africa per la musica africana in particolare ma anche per l'Africa in generale poi sono andato a scoprirla a vederla di persona e mi sono reso conto che è davvero un altro mondo cioè è molto difficile per un ragazzo europeo calarsi in una realtà africana cambiano completamente i linguaggi i codici e tutto il resto però avevo questo grande amore e sono andato lì a vedere ed era proprio così c'è tutto il villaggio in cerchio e quelli che suonavano che davano il ritmo Marley aveva questa capacità di farti trascendere no? anche attraverso le sue canzoni attraverso le sue parole cioè appunto dimentica i tuoi guai danza muoviti danza quindi la musica africana ha questa la musica africana afroamericana e Marley in fondo è un afroamericano ha questo potere e quindi io ho cominciato a trasmetterla eccetera poi a un certo punto è arrivato il momento il momento 1977 tre concerti di fila o quattro addirittura al Rainbow il Rainbow era il grande teatro londinese nel nord est di Londra che adesso non c'è più ci sarà una ginseria non so un hamburger place o qualcosa del genere e e quindi ok ci organizziamo io facevo popster allora ero il direttore si fa per dire quindi l'antesignana di rockstar sì e quindi ok parto c'erano le case discografiche le case discografiche tanto vituperate in realtà avevano un ruolo fondamentale perché ti mettevano in contatto con la loro controparte inglese cosa che adesso invece devi passare attraverso i management personali il PR e tutto il resto invece la case discografiche era semplice voglio andare a Londra a fotografare Marley e a intervistare Marley Marley non dà interviste ok voglio andare a Londra a vedere e fotografare Marley perfetto quindi Island Records che era la casa discografica dominante in quel periodo c'era veramente tutti i migliori a partire dai traffic e quindi arriviamo a Londra io e la mia fidanzata viaggio low cost credo già allora charter si chiamava quello del low cost di oggi è il charter di allora arriviamo e chiaramente arriviamo in ritardo ovviamente con l'albergo da tutta l'altra parte di Londra eccetera quindi poggiamo ste cose in albergo corriamo e arriviamo in ritardo ovviamente arriviamo già di natura io arrivo in ritardo lì proprio veramente molto in ritardo concerto già cominciato biglietterie chiuse perché Londra mica è Roma che rimangono tutti a chiacchierare quelli a 9 a un quarto boom biglietteria chiusa panico perché eravamo arrivati dall'Italia e a un certo punto passa di fianco a me a quella distanza ecco queste sono le cose che non ricordo 5 metri erano 10 metri erano 2 metri era un chilometro non lo so passa Chris Blackwell produttore di Marley titolare dell'Island figura fondamentale nella mia gioventù musicale e allora io mi sono precipitato da lui ho fatto Chris 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 si gira Chris Blackwell fico della Madonna giamaicano bianco figlio di un'ereditiera del caffè giamaicano proprietario della casa la madre aveva un aliason con con Fleming quello che scrisse 007 che è stato scritto in Giamaica da cui poi il primo film quello con Russell Andres che era su una spiaggia giamaicana Chris Chris ho avuto un problema perché io poi ho chiamato la tua segretaria chissà che cavolo io ho detto no perché poi siamo arrivati in ritardo perché il volo questi voli questo mi ha guardato e mi ha fatto ok ma no problem e noi ci siamo messi in scia e stavamo a distanza all'ingresso del rainbow sbarrato con questi portoni enormi che si sono aperti come il Mar Rosso e nel giro di 30 secondi sono passato dalla disperazione lui mi ha preso proprio come un cucciolotto mi ha dato a uno che mi ha portato nel pit e quindi in giro di 30 secondi mi sono trovato dalla disperazione di essere fuori a trovarmi Bob Marley a questa distanza davanti e ho cominciato a fare fotografie e tutto il resto e va bene fin qui tutto a posto la mia fidanzata aveva a lei l'avevano messa nel gruppo dei giamaicani per cui ho fatto amicizia con la fidanzata di Family Man che era il bassista che gli ha detto dove stavano di casa per cui stavano a Chelsea o a Knightsbridge insomma comunque da quelle parti per cui il giorno dopo Kings Road per cui il giorno dopo siamo scesi e poi abbiamo svoltato e c'era questa casa bianca proprio un edificio grande bianco un po' senza niente intorno e a quel punto la visione arriva una BMW Bob Marley and the Waders arriva una BMW dall'altra parte della strada in chioda e scende correndo dall'altra parte della strada con tutte queste trecce che volavano tutte le parti Marley vabbè allora segui il segnale direbbe il poeta e quindi siamo andati lì toc 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 apre la porta una apre la porta una e noi ci troviamo nell'anticamera di questo edificio vittoriano inglese classico tutti neri che ci guardano come fossimo due alieni e questi che cavolo sono venuti a fare e io vorrei fare un'intervista con Marley e ho detto ok ok one moment ma ed è arrivato veramente Marley il quale mi ha dato Marley era piccolo sarà stato un metro e sessantacinque Marley era proprio molto piccolino fascio di muscoli di nervi petto in fuori veramente un leone per cui mi ha dato questa stretta di mano che mi ha mandato una scarica fino al gomito sono rimasto con la mano così e mi ha detto beh cosa posso fare per te e gli ha detto ma guarda io so che tu non fai interviste perché ho chiesto all'Illand cioè non so che non fai interviste ma comunque vabbè insomma lei dice no 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 ma no facciamo facciamo un'intervista ok però la facciamo dopo la partita di pallone di oggi pomeriggio e gli ha detto vabbè se mi tocca venire a giocare a pallone vengo a giocare a pallone ma disgrazia dietro l'altra e quindi con loro Marley era un ottimo giocatore di pallone giocava un po' la Bruno Conti alla destra a rientrare qui abbiamo fatto tutta sta partita e poi vabbè poi ci siamo salutati i giamaicani erano come come il Barcellona trent'anni dopo dovevano entrare in porta con la palla se non entravano in porta niente tornavano indietro ripartivano dalla propria area cioè facevano tutti i giri del mondo e e alla fine gli ho detto vabbè e allora io ho fatto vabbè allora ciao eh e lui dice ma non vuoi fare l'intervista e dico sì e dice allora guarda Bob fa la sua lettura studia la Bibbia perché lui tutti i giorni un'ora al pomeriggio studiava la Bibbia quando ha finito ti chiamiamo calcola che non c'era il cellulare e io ho detto vai sì ok vabbè io torno in albergo allora eventualmente chiamatemi e ho pensato che chiaramente la cosa era finita lì questi mi hanno chiamato davvero ha detto Bob ha finito la sua lettura vuoi venire a fare un'intervista e dico sì certo per cui ci siamo precipitati abbiamo fatto questa intervista della quale fondamentalmente io ho un ricordo molto confuso nel senso che non è sta tutta sul primo libro su Dear Mr. Fantasy non è che lì per lì ne avessi capito molto di quello che diceva nel senso che lui era cioè parlava questo patuaggio maicano tu non l'hai conosciuto male non l'hai intervista però era un patuaggio maicano che si capiva una parola ogni 4 o 5 però però una bella intervista poi ho parlato con Malachia che era il suo istruttore di Bibbia abbiamo fatto una lunga chiacchierata anche con lui e poi alla fine allora viene al concerto con noi e lì si è creato questo rituale che tutte le sere andavo al concerto con loro si arriva in autobus c'era improvvisamente non so bene perché una nebbia in Val Padana di colpo la gangia per cui tu arrivai al concerto che anche se non te l'hai rimesso da parte ma già arrivai al concerto che eri un po' così e poi la cosa si è ripetuta anche a Milano fra l'altro perché quando loro sono venuti a Milano vabbè lì poi ci siamo salutati salutati vabbè io poi ho continuato a andare perché avevo biglietti per diverse sere quando poi è tornata a Milano stessa storia vi ricordate no? Milano Milano-Torino quei due concerti io ero militare papà mi fece avere una licenza premio si chiamavano così immaginate che io sono passato dalla caserma a Sassari a San Siro con delle nuvole di gangio impressionanti pensate che salto che sia stato poi la sera abbiamo detto proviamoci abbiamo dormito a Lilton nello stesso albergo suo e poi la mattina quando loro sono scesi c'era il pullman io ho incrociato l'organista Tyrone Downey che ci ha lasciato un paio di anni fa che col quale avevamo creato un rapporto insomma e gli ho detto hey Tyrone Carlo what are you doing ma? e dico guarda siamo qui sono venuto ieri sera ma vieni con noi a Torino e vabbè andiamo a Torino dai sul pullman di nuovo nebbia in Valpadana eccetera eccetera la cosa più bella però è che noi siamo arrivati nei camerini a Torino al vecchio comunale e chi era l'unico che c'era una canna rimasta? l'unico perché quando a un certo punto l'ho tirata fuori c'era la gente a satanà passa qua passa qua l'ho accesa e non ne ho più direi che non c'è modo migliore per finire questa prima parte della serata che farci una canna grazie a tutti grazie a tutti